E ora cambiamo argomento, parliamo di coronavirus e dell'investimento che sfiora i 100 milioni di euro da parte della Regione Puglia per potenziare la rete ospedaliera, ovviamente non soltanto quella dedicata al Covid-19. Intanto la curva del contagio resta stabile. E' il servizio. La curva dei nuovi contagi in Italia scende, è quanto racconta l'ultimo bollettino diffuso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in cui sono poco più di 250 e nuovi casi registrati in tutto il Paese, dove il numero complessivo dei positivi è superiore alle 238 mila unità. Calano anche i decessi mentre sono stabili i tamponi effettuati, 57 mila, di cui più di 2 mila fatti in Puglia, regione in cui l'altalena dei contagi, seppur di poco, continua a oscillare mantenendo sotto l'uno l'indice RT di contagiosità. Resta Bari la provincia più colpita dal virus dall'inizio della pandemia a oggi, agli opposti l'area di Taranto. Mentre sono solo 10 i comuni della provincia di Lecce in cui ci sono persone ancora positive al virus. I contagiati sono complessivamente 11, 5 meno rispetto a una settimana fa. 6 si trovano negli ospedali salentini inseriti nella rete Covid. E' quanto emerge dal report dell'ASD di Lecce che analizza l'andamento epidemiologico nei paesi della provincia salentina raffrontando i dati dal 29 febbraio scorso a oggi. Costante il lavoro da parte dell'azienda ospedaliera di Testing, Tracing e Tracking per individuare precocemente eventuali nuovi casi. E sono risultati tutti negativi 545 test effettuati sui lavoratori della ditta di macellazione carni siciliani di Palo del Colle nel Barese. Nello stabilimento sono stati eseguiti 1090 tamponi e 367 test sierologici sui dipendenti che a fasi alterne sono stati monitorati da medici di base e dalle unità speciali di continuità assistenziali, le USCA. Sono state complessivamente 98 le persone positive e 29 i cluster familiari individuati. La campagna d'indagine dell'ASD ha seguito uno schema a cerchi concentrici se partiti dal primo focolaio rilevato nell'area macellazione per arrivare a tutti gli altri settori. Così è stato possibile mappare e controllare con precisione la diffusione del virus controllando non solo le condizioni igieniche della ditta ma anche lo stato di salute dei lavoratori allontanando dalla sede chi mostrava sintomi simili influenzali. I dipendenti possono rientrare al lavoro anche se spetta ai medici la valutazione di idoneità. La regione invece continua a rafforzare la rete ospedaliera. Sfiora infatti 100 milioni di euro l'investimento previsto per il piano inviato al Ministero della Salute che contiene la programmazione relativa a 278 posti letti aggiuntivi di terapia intensiva e 283 da riconvertire in semi-intensiva. L'obiettivo è potenziare tutti gli ospedali pugliesi, non solo quelli inseriti nella rete Covid e consentire la continuità assistenziale e soprattutto chirurgica anche nell'ipotesi della recrudescenza dell'epidemia. In attesa dell'acquisizione del parere ministeriale la proposta sarà illustrata dalla Commissione Consigliare Sanità agli ordini professionali, alle organizzazioni sindacali e a tutti gli stakeholder.